Questa iniziativa è nata relativamente poco tempo fa, cioè al termine dell'estate del 2012 ed è un'iniziativa che raccoglie attivamente diverse persone che hanno come obiettivo comune quello di riprendere tutta una serie di testi, di materiali, giornali, riviste, fogli di movimento, per cui di testi teorici ed iconografici legati alla storia del movimento operario e dell'azione antifascista e di rendere i fruibili al grande pubblico, scannerizzando e digitalizzandoli e mettendoli in rete attraverso questo espediente che è appunto quello dell'archivio reso sotto forma di sito internet. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!